Hyundai presenta i10 Più spazio al comfort, 5 porte e 5 posti veri Più piacere di guida con i motori Euro 6 Più risparmio grazie al GPL Più emozioni, tutte da guidare Hyundai i10, la città vive nuove emozioni Solo a maggio tua 8.450 euro con la formula iPlus Gold Auto albanese concessionaria Hyundai Vendita, assistenza e ricambi Da 30 anni al servizio del cliente A Siderno, telefono 0964 34 45 64